i lanci veloci dopo una parata va bene va bene bella il tuffo era buono va bene che la porta grande ci sta eh va bene voi intanto lavorate che prendiamo qualche altro pallone lo mettiamo eh buono sono imparabili queste vacca ci sta eh devi metterle anche tu così oh gran tuffo gran tuffo va bene va bene così devono essere dovete lavorare eh buono buono dovete mettere in difficoltà il compagno eh quindi dovete cercare di farlo lavorare eh di farlo tuffare forza forza leo non ti spostare un quarto d'ora prima gran parata dai prendere un'altra pacca sono lì li ho messi apposta i palloni lì poi li recuperiamo buono bravo leo e bravo pacca anche che l'hai fatto tuffare eh forza oh grandissima parata andiamo eh andiamo forza forza pacca devi metterlo più in difficoltà eh gliele stai mettendo troppo comode devi cercare l'angolazione giusta e farlo andare eh toccata bravo 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 e spostatevi non sempre lo stesso lato eh pacca capito l'altra la prende un'altra leo leo girate non sempre lo stesso lato eh se no fate sempre la parata alla stessa parte buono buono cercate di non andare prima se no non lavorate leo non andare prima se no non lavorate non mi interessa sempre più di buono mi interessa che lavorate buono poi in partita non ne tieni una eh dai ancora 15 secondi bravo pacca 5 4 dai l'ultimo tiro 3 è buono l'ultimo tiro 3 è buono